Noi perciò ci vediamo su da me, pomeriggio alle tre. Lei è molto giovane, ma per questo non sarà, che dobbiamo attendere la sua maggiore età, per uscire la sera e poi fare quello che vogliamo noi. Noi perciò ci vediamo su da me, pomeriggio alle tre. Noi perciò ci vediamo su da me, pomeriggio alle tre. Il padre parla di moralità e poi lei dice guarda me, sei mia figlia e porti il nome che portava il mio papà, lui così la sera la tiene a vedere la tv. Noi perciò ci vediamo su da me, pomeriggio alle tre. Noi perciò ci vediamo su da me, pomeriggio alle tre. Pomeriggio tragico, quando il padre scopre che tra noi, non c'è amor platonico, come usava i tempi suoi. Ora lui la tiene in casa, ma al pomeriggio non c'è mai. Noi perciò ci vediamo su da lei, pomeriggio alle sei. Noi perciò ci vediamo su da lei, pomeriggio alle sei. Noi perciò ci vediamo su da lei, pomeriggio alle tre. Lei è molto giovane, ma per questo non ci sarà, che io debba attendere la sua maggior età. Per uscire insieme a lei, fare quello che vogliamo noi, Noi perciò ci vediamo su da lei, pomeriggio alle sei.